Il secondo libro, si sa, è sempre il più difficile, soprattutto se il primo ha venduto più di 500.000 copie e è diventato un film di successo. Ma Silvia Vallone non sembra patire di ansia da prestazione e dopo Acciaio parla di Marina Bellezza, il nuovo lavoro sempre edito da Rizzoli, come una storia che ha sempre fatto parte di lei. Erano anni che sognavo di costruire un personaggio femminile grande nelle fragilità, nella forza e soprattutto un personaggio femminile che avesse in sé le contraddizioni del nostro tempo. Quindi per me è stata una gioia in realtà dopo tanto viaggiare con Acciaio, potergli dire addio e finalmente iniziare a scrivere un'altra storia che per me è molto importante soprattutto adesso perché è una reazione al tempo che stiamo vivendo. Per la Vallone, a Bitonto per presentare Marina Bellezza, di nuovo un racconto di provincia, dopo Piombino, Biella, due realtà simili eppure diverse. L'Italia è un paese di provincia e tutte le province che compongono l'Italia sono dei piccoli mondi, è proprio questa anche una delle bellezze, una delle forze di questo paese, anche per questo che mi piace raccontare la provincia. Piombino l'ho scelta perché in quel momento era importante raccontare una storia di fabbriche, di operai in un momento in cui non si parlava mai di lavoro, in un'Italia in cui sembrava che gli operai e le fabbriche non esistessero. Quella è stata la mia reazione. Oggi con i bollettini di guerra drammatici e drammaticamente in ritardo, che vediamo riguardo alle fabbriche, agli operai, dovevo reagire in un modo diverso. Allora sono salita o risalito alla penisola arrivando a Biella che è una provincia industriale ma con una storia industriale diversa rispetto a quella di Piombino. Ecco qui.